Previsioni meteo per venerdì 18 aprile. Al nord torna a peggiorare il tempo con precipitazioni in intensificazione ed estensione da est. Al centro e al sud, tempo a tratti ancora instabile sull'Abruzzo con fenomeni sparsi in locale sconfinamento sul Basso Lazio, solleggiato altrove, variabile su basso versante adriatico e dorsale. Venti moderati settentrionali, mari mossi o molto mossi, temperature stabili o una lieve diminuzione.